Nel momento in cui si è andato a controllare si sono evidenziate situazioni di totale illegalità. Questo affermava ai nostri microfoni il consigliere comunale della Lega di Mortara Alberto Gregotti in merito all'utilizzo dei fanghi in agricoltura in provincia di Pavia. A cosa si riferiva? Inallegando la mozione da lui proposta e approvata all'unanimità in consiglio c'è una tabella che riporta i risultati dei controlli effettuati sul territorio nell'ultimo anno, numeri che fanno venire i brividi. I limiti per carbonio, fosforo, azoto e metalli pesanti sono stabiliti dal decreto legislativo 99 del 1992 e dalla delibera di giunta regionale 15.944 del 2003. Ecco alcuni esempi. Per i metalli pesanti l'unità di misura è il milligrammo per chilo sulla superficie secca. L'arsenico ha limite 10 ma sono stati trovati fanghi che arrivavano fino a 41. Per il rame valore limite 1000 si è arrivati a 3.792. Per il cromo, limite 750, si è raggiunta quota 1784. Fuori scala anche i rilevamenti per azoto, carbonio e fosforo. Se per i metalli pesanti gli sforamenti, benché assai significativi, si sono verificati in casi isolati, per le altre sostanze lo sforamento dei limiti è molto più diffuso e lo riscontra anche considerando soltanto la media dei dati scaturiti dai controlli. In questo caso l'unità di misura è la percentuale sulla superficie secca. Per il carbonio la legge stabilisce un valore tra 8,2 e 20. La media dei rilevamenti in provincia di Pavia è di 30,5, si è arrivati a un massimo di 48,4. Per quanto riguarda l'azoto si dovrebbe stare tra 1 e 1,5. Il valore medio misurato è di 5,3 con un picco dell'11,8. Per il fosforo la legge prescrive un valore tra 0,1 e 0,4, mentre la media riscontrata è di 1,8 con un massimo di 12,5. Sulla base di questi dati e considerando che i controlli sono effettuati su una minima parte dei fanghi utilizzati in provincia, Gregotti ha espresso la sua preoccupazione subito condivisa dall'intero Consiglio Comunale.